Che significa indossare la maglia dell'Arezzo? Significa responsabilità, significa andare a vincere, cercare di vincere in tutti i campi e di far felici i tifosi perché visto l'annata scorsa mi è stavolta positiva. Vi ha dato un'esperienza in Serie D con il Molfetta, nella tua carriera però c'è soprattutto tanta Serie C. Che campionato ti aspetta? Sicuramente un campionato molto difficile dove tutti cercheranno di battere l'Arezzo però sicuramente troveranno sulla loro strada una squadra e un gruppo affamato che cercheranno di portare a casa i tre punti. Il tuo numero è già venuto fuori sia in caso di Serie C che di Serie D. Alla fine avevi sposato fin da subito il progetto? Sì, sono stati dei contatti subito dopo la fine del campionato. Mi faceva molto piacere e sono stato cercato molto. La mia scelta è ricaduta qui perché è una piazza molto importante perché tutti mi hanno voluto. In una intervista vi hai detto se resto in Serie D è per vincere il campionato, è così? Sì, esatto. Ho avuto anche qualche contatto con la società DC però sono voluto venire io qua, è stata la prima scelta a Arezzo quindi sono qui per vincere insieme a tutti. Grazie.